Ma capite quanto è stata criminale questa operazione? Perché uno dice pago i greci, io posso anche non essere d'accordo perché magari gli italiani possono stare peggio, ci sono tanti italiani che possono stare peggio, ma no, qui noi abbiamo preso dei nostri soldi che erano depositati momentaneamente nel fondo salvastati, quindi li abbiamo pagati, già pagati, quindi non è che uno dice adesso mi arriva un'altra tassa, per ora, però li abbiamo già pagati ma erano come se fossero in un porcellino salvadanaio, erano come se fossero soldi nostri, questi soldi vengono prelevati dal porcellino salvadanaio, dati alla Grecia per ripagare la BCE e il Fondo Monetario Internazionale, capite la cosa incredibile, noi diventiamo creditori della Grecia per ripagare altri creditori, cioè è come dire che c'è in giro uno spiantato, vengono da te e dice senti aspetta un attimo, dai dei soldi a questo spiantato, ma per farlo mangiare? No, per fargli restituire i debiti che lui aveva con la banca e con quell'altro, e io credo sono fesso, cioè pago io per pagare poi dopo uno che gli aveva prestato prima incautamente i soldi, senza chiedere nulla, guardate che è una cosa pazzesca questa sostituzione di creditore che sta avvenendo in Grecia, noi i primi 40 miliardi che abbiamo dato alla Grecia sono serviti per pagare le banche tedesche e le banche francesi e questo ormai è storia, penso che non è più una cosa su cui c'è da discutere, ora questi soldi in più che gli diamo servono per pagare la BCE e il Fondo Monetario Internazionale e noi non riavremo più un centesimo, siamo qui a parlare di cosa?